Allora carichi come sempre sono le Ci siamo, sono le 8 va benissimo Allora Nedved firma il fallimento della Juventus Oggi Pavel Nedved firma il fallimento della Juventus Allora innanzitutto vabbè, campionato disastroso Sempre in seguito Lasciamo per, quest'anno lasciamo Allora, ve lo spiego tutto Perché sia le Jean Fé che l'incazzato Che quell'altro lì Il nichilista Non ve l'hanno detto Allora il problema è questo Lì mascherato Non ve l'hanno detto Allora il problema è uno La Juve, la Fiat non ha più soldi da mettere nella Juventus La famiglia Agnelli vuole vendere la Juventus Questo è il vero problema del tifoso juventino Perché la Juve è tecnicamente fallita La Juventus è tecnicamente Dopo l'affare rovina Cristiano Ronaldo È tecnicamente fallita Quindi tengono Pirlo Andranno in Europa League Anche il prossimo anno Anche l'anno dopo Fino a quando non si presenta L'emiro del Qatar Che mette i soldi E i tifosi della Juve Sono perculati Per l'ennesima volta Anche l'eniro del Qatar Grazie a tutti.